I consiglieri comunali di Fratelli d'Italia, Toti Petra, Antonio e Gianluca Bruzzaniti, in un'interrogazione indirizzata al sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, parlano di comunità energetiche, il cui obiettivo è di permettere alle pubbliche amministrazioni e ai cittadini di creare forme innovative di aggregazione e di governance nel campo dell'energia, per creare vantaggi per i singoli e la comunità, scrivono, sia economici sia di qualità della vita, e di erogare servizi sul territorio. Le comunità energetiche, aggiungono, rappresentano un modello innovativo per la produzione e la distribuzione e il consumo di energia proveniente da fonti rinnovabili. Sono costituite da un insieme di persone che condividono energia rinnovabile e pulita, in uno scambio tra pari puntando a ridurre lo spreco energetico e a condividere energia a un prezzo concorrenziale. In tale contesto il ruolo del Comune è centrale come soggetto che facilita la comunicazione e il coinvolgimento dei cittadini. Fanno riferimento poi all'approvazione dell'elenco relativo alle istanze ammissibili nell'ambito del programma di sostegno agli investimenti dei comuni della Sicilia, al fine di promuovere la sostenibilità energetico-ambientale nei comuni siciliani attraverso le comunità di energie rinnovabili e solidali, ed in particolare al finanziamento ottenuto dal Comune di Caltanissetta di poco più di 20.000 euro, per l'esattezza 20.867,54 euro. Posto che il Consiglio Comunale non conosce il progetto che gli uffici hanno redatto e inviato alla Regione Sicilia per accedere alle linee di finanziamento, precisano i consiglieri, che all'emozione e gli impegni che la sisse consigliare può e deve suggerire e affidare all'amministrazione attiva, ci sembra più responsabile e cogente intraprendere strade di sviluppo energetico precise e realizzabili in un momento di estremo bisogno, considerato lo scenario socio-economico della nostra città, interrogano la signoria vostra chiedendo di far conoscere il progetto inviato all'assessorato regionale, di far conoscere tutte le azioni atte a creare uno o più comunità energetiche nel Comune di Caltanissetta. Si richiede e si legge infine nel documento, cortese risposta scritta nei termini di legge. Una risposta che verrà data in Consiglio Comunale, così come ci fa sapere il primo cittadino contattato telefonicamente. Grazie a tutti.